Buongiorno a tutti amiche ma soprattutto Exonive del Back and Raft Perché Exonive? Perché Exonive mi ha richiesto di fare questo tutorial e ve lo farò vedere come craftare un pofanetto per i vostri manga preferiti e anche quelli che non vi piacciono quindi va bene per tutti i tipi di manga e questa non è la mia idea ho visto un video del buon canale di Frog copierò quello che ha fatto lui soltanto vi faccio vedere come lo faccio io che è uguale a come lo fa lui però lo faccio io esattamente come ho fatto quello per Dr. Stone che su me mi è venuto molto bene chiaramente è ancora da finire ma intanto vi faccio vedere la base di come si fa un pofanetto perché devo fare per i secondi 8 volumi di Dr. Stone ne approfitto faccio un video quindi andiamo a vedere cosa ci serve questo è quello che ci serve per fare un pofanetto alla mia maniera quindi un foglio di un cartone questo caso l'ho trovato un foglio che è largo è 2 mm questo foglio qua più o meno quindi è sottile comunque ma non per questo è molle è molto resistente come potete vedere e quindi è perfetto proprio questo tipo di cofanetti che normalmente vengono realizzati con in realtà materiale molto più più fragile però questo ho trovato provai un tempo a farlo con i classici cartoni ondulati bene bene così meglio così quindi cosa ci serve altro? ci serve la colla a caldo con le ricariche di colla per poi incollare i vari pezzi un pezzo di scottex per evitare di sporcare in questo caso un altro cartone da mettere sotto per evitare di tagliare la tavola con cosa tagli? tagliamo ovviamente col taglierino rigorosamente arancione quindi se non l'avete arancione dovete recuperarlo così una matita e una gomma per segnare i punti dove li tagliare una squadra o un righello va anche bene per segnare i punti e calcolare le misure lo scotch di carta che io lo uso per rifinire l'interno però poi vediamo e poi manca di riferimento per evitare di rovinare i volumi di Dr. Stone chiaramente qua ho usato come riferimento un volume di One Piece il 57 in questo caso perché l'ha già rovinato e poi non mi frega un cazzo ed è della stessa dimensione ovviamente di quelli di Dr. Stone quindi va benissimo così i volumi di Dr. Stone come in questo quale di One Piece sono di 11,5 di larghezza come potete vedere e 17,5 in altezza millimetro in più, millimetro in meno quindi un margine di errore di larghezza ho fatto 12 per 18 quindi qua che ritaglio ho fatto ho scelto di farne 9 volumi quindi non 8 come ho detto prima ho sbagliato perché Dr. Stone sarà di 26 quindi 9 più 9 è 18 più 8 è 26 va bene così calcolare quanto vuoi farlo largo quindi 12 volumi quanto sono larghi 9 volumi quanto sono larghi 9 volumi guarda caso è sempre più o meno 12 centimetri quindi 12 centimetri anche in larghezza quindi 12 centimetri così per 9 volumi 12 centimetri di larghezza e 18 in altezza semplicemente fare i quattro lati del cofanetto che ora comunque lo rifaccio quindi vi faccio vedere con tanto dialetto per poi incollare con la col da caldo procediamo a tracciare lì con la matita che come vedete io l'ho già fatto mi sento proprio Giovanni perché c'è le cose già fatte mi sono portato avanti poi in realtà forse pensavo di farlo qua sotto per farne uno qua uno qua e uno qua adesso vediamo come potete vedere ho tracciato presto altre righe e quindi abbiamo di nuovo come detto là sopra 12 questo è un quadrato 12 per 12 esattamente come qua sopra 12 e 18 in altezza quindi uguale là quindi come potete vedere ne sta uno qua e riesco a fare un altro qua quindi 3 su un foglio pagato vi specifico 3,30 euro non è un foglio che costa poco l'ho dovuto trasportare a piedi da Piazza Napoli a casa mia però ne vale la pena se riesco a farci fuori i 3 cofanetti esattamente quelli che mi servono per dottostonto l'altro anche se qua non devo farlo a 12 perché è un volume in meno vedremo vedremo se volete farlo con un altro manga siccome mi è stato chiesto di riferimento 20 century boys ma per ora non ho intenzione di fare il cofanetto anche se il mio sogno è fare un cofanetto per qualsiasi cosa che non ha un cofanetto quindi se 20 century boys misura 15 centimetri io per sicurezza lo farei 15 e mezzo se non 16 perché avendo la sovracopertina rischi messa male in altezza è lungo 21 quindi anche qua 21 e mezzo poi le misure precise sicuramente le trovate sul sito del rivenditore di Planet Manga per cui procedimento è lo stesso direi che è piuttosto semplice basta trovare le misure e sapere quanto farle in più è importante molto la dimensione del cartoncino perché se lo fai col cartone più spesso come qua che sarà spesso mezzo centimetro va a rovinare tutto perché allunga tutto quanto quindi state molto attenti se no sbagliate come ho fatto io dopo aver fatto le tracce cosa fai? qua devi allungare perché sopra e sotto devi fare delle alette tipo così così ora lo faccio con la squadra perché poi queste qua andranno piegate e incollate con non poca difficoltà sono riuscito a tagliarlo vi dico perché comunque il taglierino è quello che non è male ma non è che taglia l'acciaio e questo cartone è bello spesso e duro perché quello è importante per sotto se no rovinate tutto e serve forza serve forza mi sono fatto aiutare dalla squadra appunto per tracciare dritto quello che ci rimane è una bella forma dove assicurarci che i nostri manga stiano dentro secondo passaggio che non è il secondo però vabbè la cosa che ho considerato buona dato che questo cartoncino qua è bello spesso ovviamente questo dipende dal tipo di cartoncino che usate voi quindi non vi so aiutare è che per aiutare la piega faccio un piccolo taglietto qua per riuscire a piegarlo meglio senza spaccarlo faccio un piccolo taglietto per aiutarlo a piegarlo quindi taglio e poi si piegerà dall'altro lato con un po' di cura e precisione avremo le nostre parti piegate pronte per essere incollate come vedete piegare questo è molto difficile infatti potete vedere che non viene alla perfezione perlomeno quel tipo di cartoncino scelto da me non viene alla perfezione però sicuramente fare il taglietto minimo rompe quella parte lì di carta e mi aiuta tantissimo a piegarla quindi ora cosa si va a fare si va ad accendere la pistola a caldo l'avrò pagata a 5 euro nel romerlen state molto attenti perché la colla a caldo vi può ustionare cosa si fa con la colla ovviamente sta già uscendo qua a mettere qua nei bordicini per poi piegarlo e incollarlo non è un lavoro facile servono sicuramente due mani se non tre quindi metto giù il telefono ci vediamo tra poco dopo aver incollato bene le parti con la colla a caldo andiamo a vedere se ci stanno i volumi che abbiamo fatto se no dobbiamo buttarvi a tutto con grande gioia vi dico che ovviamente i volumi dentro ci stanno senza essere neanche stretti però c'è comunque spazio di uscita per tutti i lati chiaramente se fate così cadono quindi dimensione è perfetta adesso però si arriva al passaggio secondo me finale che non so se serve a qualcosa ma lo faccio ovvero con lo scotch di carta coprire i lati che abbiamo incollato per evitare che la colla vada a toccare i fumetti dopo aver messo lo scotch è un mato un po' grezzo perché non sono bravissimo il prodotto è pronto ne farò altri quando sarò soddisfatto della numerosità e riuscita degli altri come procederò andrò a far stampare su un foglio a 4 no non lo so andrò a far stampare comunque per ricoprire queste parti qua e per rendere un bel cofanetto comunque per ora questa è la base spero vi sia piaciuto questo video eccomi lì spero vi sia piaciuto questo video e al prossimo video e al prossimo video e al prossimo video